Ciao a tutte, ciao a tutti, beh insomma l'avrete già capito dal titolo, questo è un video diverso dal solito, perché? Perché siamo arrivati ai livelli dell'indecenza, allora sono più di due anni che accade, ma io avviso una volta, avviso due, poi a un certo punto io mi stanco. Allora, la cosa è questa, io non ritengo di aver creato il mondo, ma di aver creato delle formule studiate, individuate in quello che è il campo morfogenetico, in quello che è il mondo delle costellazioni, in quello che è il mondo della numerologia, in quello che io vedo da anni, da quando avevo otto anni, ok? E queste formule sono mie, i rituali che ho creato sono miei. Ma perché dico questo? Perché io divulgo tutti i giorni, però ho cose che ovviamente io presento in sessione, ho elementi che io presento in privato, quando la persona l'ho davanti, capisco il suo problema e cerco di farne fronte. Però il discorso qual è? Che alcune di queste persone mi vengono dicendo che l'altra persona, i cosiddetti operatori di luce, dicono che io, Fabio, sono andato a prendere il materiale loro, oppure lo utilizzano senza nemmeno avere la delicatezza di dire è materiale di Fabio. Io ogni volta dico, mi sono ispirato a Jodorowsky su questo, a Tias dice quest'altro, e via dicendo. Non si fanno queste cose, ci vuole rispetto per il materiale che gli altri hanno studiato per anni. Le formule che io ho riconosciuto nel Feng Shui, ammettetelo che sono di Fabio Nezac, ammettete che è materiale che è Fabio Nezac che ha riconosciuto, perché dite che è vostro? Questa è mancanza di rispetto nei confronti delle persone che ci mettono il cuore. Questa è la verità. Quindi vi invito caldamente ad evitare di dire Fabio così, Fabio Colà, facendo commenti e poi queste persone me le vengono a riferire. Mi vengono a riferire i commenti che voi fate sul materiale che io ho utilizzato. Io ho messo davanti a una persona che ha un problema e tu me lo vai a prendere e dire che è tuo. Tu vai a dire che è tuo e che Fabio te lo avrebbe preso. Non va bene tutto questo. Io almeno ho il coraggio di dire che ho preso la numerologia grazie a Jean-Claude Badà. Io non vado a inventarmi cose del tipo queste cose le ho inventate io mentre le ho inventate un altro. Quello che è mio è mio. Quello che è tuo è tuo. Ma a me non interessa se tu le usi o non le ti abbia almeno l'accortezza di non criticarmi per legittimare il fatto che tu hai quel materiale in mano. Ma sapete quante volte mi sono state dette queste cose? Ma una quantità impressionante. Impressionante. Io chiedo rispetto. Rispetto per il mio lavoro. Poi mi si dice che io non ho formazione. qualcuno ha mai sentito parlare del dottor Nader Butto. Qualcuno ha mai sentito parlare della dottoressa Dalbel. Scusate non mi ricordavo bene il cognome. Ma sapete i corsi che io ho fatto? Jean-Claude Badà lo conoscete per caso? Conoscete personaggi di questo calibro? Ora al di là di tutto io posso dire di potermi permettere anche di dire che vedo cose che altri operatori non vedono e quindi posso anche avere una formazione che nasce grazie al cielo da ciò che riesco a vedere con i miei occhi. Quella è la vera formazione. Non è leggere un libro, non è star lì ascoltare una persona e magari imparare un terzo. È vedere, confrontare, imparare. È il vissuto della persona ciò che conta. Ricordiamocelo questo. Quindi io adesso con questo video non intendo puntare il dito a nessuno in particolare. Ma non mi si venga ancora a criticare su cose che io ho creato. Io ho messo nero su bianco. Io ho creato con l'amore di chi vuole creare ricerca e metterla a disposizione degli altri. Quindi fatevi un esame di coscienza se state lavorando per la luce o per il buio. Perché io questa domanda me la farei sinceramente. E quando io ho avuto problemi con l'azienda di famiglia e vi dicendo io non ho tenuto nascosto le mie cose. Io ho raccontato, ho spiegato le mie cose. Perché voglio essere trasparente. Certo non vi vado a raccontare tutta la mia vita privata. Ci mancherebbe anche questo. Però rispetto. Io chiedo solo rispetto. Quindi a tutte coloro, perché sono tutte donne, tutte coloro che in questo momento hanno in programma seminari con le mie cose perché mi si viene a dire anche che hai creato tu il mondo. No ma ho riconosciuto, ho riconosciuto meccanismi che altri non hanno riconosciuto. E allora non può accadere questo? Non può essere che qualcuno individua cose come Bert Ellinger, non ha individuato il mondo delle costellazioni familiari e non gli si riconosce la capacità e il talento. Ebbene io ho riconosciuto qualcosa di cui io posso argomentare. Voi fate un copia e un colla e senza citarmi, addirittura criticarmi, fate seminari con le mie cose. Fatevi delle domande nella vita. Un abbraccio. Era un video di sfogo, ora mi sono sfogato. Ciao a tutte, ciao a tutti.